Harry, invece di guardare il suo riflesso, gira allo specchio per vedere quello della cinepresa. Il fosso che ha scavato il nostro personaggio principale alla fine del film precedente ora si trova a due metri più a destra. Il cuscino alle spalle di Unci Unci non fa altro che muoversi su e giù durante tutto il discorso. Come dobbiamo far ottenere Hermione il cappello di Bellatrix per preparare la pozione pulisucco, ovviamente facendolo semplicemente ritrovare a caso nella sua tasca giusto per non perdere troppo tempo. E senza dubbio la pozione può essere preparata ovunque e non appena serve per la trama, nonostante gli ingredienti siano rarissimi da trovare. Ma prima di continuare con il video, ti chiedo di spendere due secondi del tuo tempo per mettere il video in pausa, lasciare un mi piace qui sotto e iscriverti al canale. In questo modo supporterai il mio impegno e non perderai nessun prossimo video del tuo film preferito. Ti ringrazio in anticipo. Nei primi film il mantello dell'invisibilità era visibile finché non veniva indossato, ora è invisibile a priori, quindi se la perdi da qualche parte non riuscirai mai più a ritrovarlo. Così come nei primi film la pozione pulisucco cambiava solamente l'aspetto della persona che lo beveva lasciando la voce intatta. Ora cambia anche quest'ultima dato che serve per la trama. Le dispiace consegnare la sua bacchetta? E perché mai dovrei farlo? È la politica della banca. Sì ma perché state rischiando inutilmente? All'inizio del film ci hanno mostrato che eravate in possesso della bacchetta di Bellatrix, quindi potete semplicemente consegnarla per il controllo e il gioco è fatto, invece di rischiare di essere beccati e usare incantesimi di nascosto. In tutto ciò un incantesimo così patente e utilissimo viene utilizzato per la prima volta solamente nell'ultimo film. E perché il tizio la sua destra non se ne accorge di nulla e fa finta che sia tutto normale? Cioè fino a due secondi fa il suo capo insistiva a prevedere la bacchetta. Ora ad un tratto è cambiato diventando un idiota totale e lui non si meraviglia nemmeno. Che senso ha di segnare gli schizzi d'acqua sulla cinepresa teoricamente inesistente. Quindi con questa scena ci vogliono dire che i clienti abituali per arrivare alla loro cassaforte devono per forza farsi il giro sulle montagne russe con tanto di bagno nella cascata ghiacciata. Niente di strano. La cascata del ladro. Lava via tutti gli incantesimi. Può essere mortale. Non mi dire. Ma infatti se Hermione non avesse usato l'incantesimo sarebbero semplicemente morti precipitando a terra. Perché Unciunci non ha detto nulla? Ha rischiato la sua stessa vita. Lunos. Harry pronunciando l'incantesimo per qualche strano motivo accende la luce anche sulla bacchetta dei suoi amici. Ovviamente per non complicare la trama Lord Crooks non è stato nascosto in mezzo a tutti gli altri oggetti presenti in questa camera ma è stato piazzato nel posto più visibile indisparte da tutto il resto. Hanno aggiunto la maledizione gemido. Tutto quello che toccate si moltiplicherà. Ma è un meccanismo di difesa più inutile che abbia mai visto. Cioè non dà alcun fastidio ai ladri aiutandoli a raggiungere l'Orcrux e lasciandoli scappare senza problemi. Tra l'altro la logica di questo incantesimo è abbastanza strana. Gli oggetti si moltiplicano quando vengono toccati dai ladri. Ma in tutto ciò non si moltiplicano se vengono toccati dai ladri quando questi sono immobili. Gli addetti della banca conoscono il modo per bloccare l'aggressività del drago ma in tutto ciò lo dimenticano e non lo utilizzano solo per permettere all'eroe principale di fuggire. Mentre il drago non dà alcun fastidio il fatto che ci siano tre tizi attaccati alla sua schiena e quindi starà fermo per tutto il volo e non cercherà nemmeno di buttarli giù. È inutile nascondersi dietro le colonne se il fuoco passa da entrambi i lati. Quindi questi folletti dovrebbero bruciarsi comunque. Ovviamente nessun babbano se ne accorgerà di questa distruzione di massa e della presenza nel cielo di un drago enorme non protetto da alcuna magia. Questa ruota panoramica di Londra, chiamata London Eye, venne costruita solamente nel 2000. Mentre, seguendo la trama, ci troviamo appena verso la fine degli anni novanta. In realtà quella non era Priscilla Corvo Nero ma era sua figlia Elena. A quanto pare i maghi non hanno inventato un banalissimo incantesimo per asciugare i vestiti in un attimo. Qui gli eroi si trovano in autunno. Quando si materializzano a Hogwarts è già pieno inverno con metri di neve. Durante questa scena l'aceno di barba sul viso di Harry scompare del tutto. Credo che non sia stata una buona idea arrasarla stesso durante la ripresa di una singola scena con inquadratura fissa. Una delle sedie si è spostata dall'altro lato del tavolo senza essere toccata da nessuno. Ti fa pensare che puoi fidarti di lui? Durante tutti questi anni ti ha mai menzionato il mio nome? Cosa c'entra con la fiducia? Ci possono essere tantissimi altri motivi per cui Selente non abbia mai voluto parlare di suo fratello e della sua famiglia in generale. Il fatto che non voglia raccontare la sua vita privata a tutti gli studenti dovrebbe automaticamente star dire che è un bugiardo di cui non bisogna fidarsi. Non ha senso. La quantità di birra nel boccale diminuisce durante il taglio di ripresa. Harry non te lo posso dire perché rovino la sorpresa agli spettatori. Stiamo comunque girando un film dai. Qui vediamo che gli occhiali sono privi delle lenti mentre in alcune scene finali ci sono quelle trasparenti. Qual è il senso di cambiarla in continuazione? Dato che Hogwarts adesso è controllato dalle persone cattive, allora anche il meteo segue la stessa tendenza per creare la giusta atmosfera cupa. Questa tizia accade sul primo livello delle scale. Subito dopo si sposta su quello più in alto. Nel momento in cui Piton parlava di Harry, Ginny indossava la sua uniforme scolastica. Poco più tardi indossa i vestiti normali dei babbani. Ron è entrato insieme agli altri e si trovava alla sinistra di Arimione. Qualche secondo più tardi scompare completamente dalla scena e non ricompare fino alla fine. A quanto pare l'attore ha deciso di prendersi una giornata di riposo. Un'unica studentessa ha detto una stupidaggine e quindi tutta la casa di Serpeverde deve andare alle segrete. Mi spiegate perché c'è un odio così forte nei loro confronti? Questa è una vera e propria discriminazione. La casa di Serpeverde è caratterizzata dall'astuzia, intraprendenza, ambizione e amore profondo non ricambiato. E non dal male assoluto e altri aspetti puramente negativi come ci vengono mostrati in tutti gli otto film. Quindi se Ron ha sentito come Harry parlava un paio di volte nel sonno in Serpentese, ora automaticamente l'ha imparato a perfezione e può usarlo anche per aprire le porte segrete. Siete sicuri che è proprio così che funzioni? Neville si trova al centro del ponte. Un attimo dopo, quando si avvicina tutto questo esercito, si teletrasporta l'entrata. Se verso di lui stava correndo una massa di persone così densa, è impossibile che ne siano morti solamente tre. Dovevano morire come minimo qualche centinaio prima di capire cosa stesse accadendo. Che gentil uomo, ti lascio distruggere l'Orcrux così soffri un po' anche te. Se a qualche personaggio principale hai destinato un ruolo importante alla fine del film, allora non verrà ucciso nemmeno con una scarica di incantesimi a qualche metro di distanza. E nemmeno un piccolo sassolino ti cadrà in testa, nonostante le pareti siano esplodendo proprio alle tue spalle. Quindi puoi correre in giro senza paura. Cliccia dei personaggi principali che si salvano all'ultimo secondo è presente anche in questo film. Perché vicino a Harry non si vedono anche i nomi di Draco ed i suoi scagnozzi se stanno giusto a qualche metro di distanza? Come in ogni film, i personaggi cattivi perdono tempo in discorsi inutili e provocatori, giusto per regalare il tempo prezioso all'eroe principale permettendogli di salvarsi all'ultimo secondo. Come mai Harry non tenta di usare l'incantesimo accio invece di arrampicarsi per prendere il diadema? Ron stringe la bacchetta nella mano destra, un attimo dopo la stringe in quella a sinistra e con quella a destra prende il mione per mano. Ed eccovi il classico mostro due o tre volte più veloce dei personaggi principali che comunque non riuscirà a raggiungere per tutta la durata dell'inseguimento. Nel momento della morte di Goyle questo viene sostituito da un manichino bruttissimo che precipita nel fuoco il posto suo. A quanto pare i produttori non sanno cos'è l'inerzia e altre leggi della fisica. E in questo preciso istante Voldemort ha capito che ha sbagliato di brutto a non creare dei horcrux a caso che non potevano essere ricollegati a lui e quali poi avrebbe dovuto lasciare in qualche posto inaccessibile all'uomo, come per esempio la fossa delle Marianne che si trova a 11.000 km sotto il livello del mare. Vieni Nagini, dobbiamo tenerti al sicuro. Perché stai parlando con Nagini in lingua normale se le hai sempre parlato in serpentese? E immagino che ora non terrai la tua unica salvezza vicino a te rischiando in battaglia, ma ti smaterializzi stesso in questo istante e la vai a nascondere in qualche posto segreto lontano da qui. No? Eh vabbè allora sei stupido forte. Gli eroi principali sono arrivati nel preciso istante per poter ascoltare dall'inizio alla fine tutta la conversazione del Signore Oscuro e di Piton e capirne il senso. È giusto per non creare troppi problemi. Il mago più potente al mondo non se ne accorge della presenza di tre studenti a qualche metro di distanza dietro la parete, nonostante tantissimi altri come anche Silente furono in grado di farlo. Harry ha raccolto una sola lacrima di Piton. Al pensatoio ne versa mezzo litro di liquido. Hai gli occhi di tua madre. Eh sì, Harry ha gli occhi azzurri, la madre li aveva marroni, tali e quali. Scherzi a parte, era così difficile trovare una bambina che avesse gli occhi azzurri o al massimo mettere delle lenti a contatto. La quantità di lampi in questa scena è fuori da ogni senso di norma. Un buco di trama pazzesco. Lily ha pronunciato questa frase stando da solo con Harry prima di morire. Piton l'ha trovata morta a terra. Perché nei suoi ricordi c'è questo frammento se a priori non poteva sentire cosa disse Lily prima di morire? La madre di Harry si trova morta a terra con addosso questo pigiama con le maniche tirate, nonostante nel momento della sua morte indossasse questo maglione a maniche lunghe. Quindi Piton ha aiutato Harry a ritrovare la spada e ok. Ma in che modo è riuscito a trovarlo in mezzo al bosco contando tutti i loro spostamenti casuali e altre protezioni utilizzate da rimione. In piena notte in mezzo al bosco ci sarà sempre un potentissimo proiettore di luce artificiale che illuminerà gli spostamenti del protagonista. Seguendo la leggenda la pietra della ressurrezione ritorna in vita ai morti ma da quel che ci viene mostrato ritornano i loro fantasmi e solamente per un periodo limitato. Silente poggia una mano su un'altra subito dopo tiene le dita incrociate. Durante questa scena Voldemort non ci pensa nemmeno di uccidere Harry immobile e indifeso solo per non rovinare il finale del film. Mentre Bellatrix, una delle streghe più forti al mondo, viene sconfitta nel giro di 7 secondi da una semplice casalinga che non ha mai nella vita combattuto le forze oscure e ha utilizzato la magia solo per lavare i piatti. Sembra che gli occhiali di Harry siano attaccati al suo viso con qualche colla superpotente. Il viso di Harry viene illuminato dalla luce degli incantesimi mentre il viso di Voldemort continua a trovarsi nell'ombra. Nagini balza da sopra le scale. Durante il cambio di inquadratura si sposta qualche metro più in basso. Ma chi se ne frega degli incantesimi di riparazione automatica che potranno mettere in ordine questo caos nel giro di qualche minuto? Meglio utilizzare una semplice scopa. E dato che il cattivo è morto è arrivata anche l'ora di far uscire un po' di sole. Senti Harry ma per caso ti fa schifo la vita? Era stato Draco a disarmare Silente quella notte nella torre di astronomia. Fino all'altra sera quando ha disarmato Draco nel castello dei Malfoi. Sì ma dato che Voldemort ha ucciso il possessore della bacchetta cioè Harry allora teoricamente questa era diventata di sua proprietà. Mentre Harry ha disarmato Draco della sua bacchetta personale non di quella di Sambuco perché automaticamente anche quest'ultimo ha deciso di cambiare proprietario. Grazie a tutti.